Quattro consiglieri comunali di Milazzo del gruppo Fratelli d'Italia, Fabiana Bambaci, Mario Sindoni, Alessia Pellegrino e Giuseppe Dodd, hanno chiesto con una nota al Cassi il ripristino della gratuità del pedaggio autostradale tra i caselli di Milazzo e Barcena Pozzo di Gotto, visti numerosi disagi che la chiusura del Ponte Mela Prima e la Bretella dopo hanno costato i pendolari. Abbiamo mandato una nota a tutto il gruppo di Fratelli d'Italia, ovviamente richiediamo nuovamente che venga ripristinato il tutto gratuitamente perché è inimmaginabile che venga intasata tutta la Stadale 113 il tratto che va da Barcellona ovviamente fino a Olivarella per poi arrivare a Milazzo. Difficoltà ovviamente anche per i pendolari, per chi cerca di viaggiare e fare avanti e indietro tra i due comuni, quindi sicuramente chiedere al Cassi il ripristino gratuito del tratto autostradale credo che sia giusto e doveroso. Anche perché poi il grande problema è il ponte che bisogna fare. Esattamente, l'attenzione è sempre rivolta al ponte, ricordiamo che quella è una strada di competenza della città metropolitana, ovviamente io resto sempre ferma sulle mie posizioni, sulla tempistica ovviamente, per me è inconcepibile comunque un periodo così lungo per ripristinare un ponte di 100 metri. Alla vostra richiesta avete avuto qualche risposta? Ancora non abbiamo avuto nessuna risposta da parte del Cassi, ovviamente ci auguriamo che questa risposta arrivi il prima possibile.